Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. A sorpresa è uscito il primo trailer ufficiale di Black Panther Wakanda Forever, sequel di Black Panther che arriverà nelle sale italiane il 9 novembre e non vedo assolutamente l'ora di vederlo, anche perché è stato detto proprio da Kevin Feige che il film sarà molto molto importante, non solo per la durata che sarà di 2 ore e 50 se non sbaglio, sarà un film abbastanza lungo. Direi però di non perderci in chiacchiere, quindi partiamo subito con la reaction, magari come sempre vi invito a supportarmi lasciando un like, iscrivendovi se non siete iscritti e supportando anche gli altri miei social che trovate tutti in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok. Ma adesso partiamo con questa reaction, assolutamente hype. Già si parte col funerario, ecco. E' stato detto tra l'altro che Namor non sarà il cattivo. Solamente chi ha sofferto. Può essere un grande leader. Sicuro Shuri. Sarà la nuova Black Panther. Sarà la nuova Black Panther. Le ali. Ok. Le hanno mantenute. E' una vita eterna. Sta arrivando. Vuole il mondo in superficie. Sappiamo cosa bisbigliate. Adesso non hanno chi li protegga. E questa è la nostra occasione di colpire. Non so quanto possa risultare credibile. Dai. Andiamo. Dai. Nuovo Black Panther. Shuri. Palese. Ok. Ok. Ragazzi. Che hype. Che hype. Che hype. Davvero. Non vedo veramente l'ora di vedere questo film. A parte il fatto che appunto voglio capire intanto come possa essere morto T'Challa. Perché nel film morirà appunto anche il vero Black Panther. Il Black Panther principale. Soprattutto voglio capire se a mantenere il ruolo sarà Shuri o comunque quella che c'è sotto la maschera. Perché il corpo si vede che è comunque quello di una donna. Però non si sa appunto se è veramente Shuri. Sarà Shuri perché i set Lego sono sempre quelli bastardi che spoilerano le cose. Si sapeva già. Ma avere la conferma dal set Lego è stato un po' un piccolo problemino. Fatemi sapere con un commento qui sotto se questo trailer vi è piaciuto. A me tantissimo. Ha messo un hype assurdo. Soprattutto anche una tristezza possiamo dire. L'unica cosa che non mi fa impazzire è come sono state usate le alette sui piedi di Namor. Avrei preferito fossero una cosa lasciata un po' all'easter egg. Non un tratto distintivo del personaggio anche nel film. Perché è una cosa un pochettino giusto un pochettino ridicola secondo me. Però vedremo come la tratteranno. Namor tra l'altro sarà un altro mutante. Il primo mutante dell'MCU al momento è Miss Marvel. Quindi vedremo se verrà citata la parola mutante. Oppure come nella serie su Kamala Khan solo mutazione. Ci sono rumor riguardo una comparsa sia di Sam Wilson come Captain America. Sinceramente non me ne frega tantissimo. Ma si parla anche di Doctor Doom nella post credit. Potrebbe anche esserci. Secondo me un rimando almeno a Doctor Doom ci sarà. Magari proprio nella post credit. Quindi aspettiamo questo film. Fatemi sapere tutti i vostri pensieri con un commento. Perché questo è stato il mio pensiero. Noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao.